Benvenuti alla Residenza del Conte, nel cuore della città di Busto Arsizio. Busto Arsizio è una città moderna, vivibile, in grande crescita e con un centro storico che offre un ottimo accesso ai servizi logistici e culturali. Oggi abitare in centro è legato alla praticità di trovare negozi sempre aperti, potersi muovere in bicicletta e vivere in una dimensione all'isola Duomo. La città ha inoltre una straordinaria e strategica centralità infrastrutturale. L'aeroporto internazionale di Malpensa si raggiunge in 10 minuti. Gli aeroporti di Milano Linate e Oriasserio sono raggiungibili in 40 minuti. Due sono le reti ferroviarie presenti, Ferrovie Nord e Ferrovie dello Stato, che significano collegamenti rapidi con la rete dell'alta velocità. Non per ultima l'autostrada Milano-Torino che si raggiunge in 5 minuti.